allora oggi ripeto vediamo alcune conseguenze alcune applicazioni tecniche anche tecnologiche della induzione elettromagnetica in particolare il concetto di induttanza e alcune sue applicazioni come trasformatorie e circuiti a red ok ricordiamo la legge principale che ci servirà come strumento chiave anche in questo caso che quella dell'induzione di parla di neumann lenz ogni volta che in un circuito perché attraverso un circuito scusate il flusso del campo magnetico cambia o una forza elettromotrice indotta e questo può essere moltiplicato n volte se anziché un circuito neo n quindi n avvolgimenti e per far cambiare il flusso posso agire rispettivamente in tre modi sull'intensità del campo sull'estensione dell'area oppure sull'orientazione tra il piano che contiene l'avvolgimento e il campo magnetico consideriamo un esempio cioè torniamo in realtà indietro al fenomeno che ha dato luogo all'induzione elettromagnetica ed è questo consideriamo due circuiti diversi chiameremo uno primario e uno secondario circuito 1 che quello a sinistra ok è collegato a un generatore di corrente alternata che vedete qua sotto corrente variabile in sostanza quando chiudo il circuito ok il campo la corrente elettrica attraverso gli avvolgimenti e produce quindi un campo elettrico immaginate che questo sia solenoide un campo magnetico interno di entità variabile questo campo magnetico che ovviamente si estende anche all'esterno del nostro solenoide attraversa anche un secondo circuito ok e quindi anche nel secondo circuito c'è un flusso variabile nel tempo e secondo la legge di fara di noi man lenz se il flusso che attraversa il nostro circuito 2 cambia nel tempo anche lì si crea una una forza etromotrice indotta ok qui c'è un esempio di una simulazione del fet su come avviene il tutto qui abbiamo il primo circuito vedete che c'è un generatore vedete che questi pallini colorati sono gli elettroni che vanno avanti indietro per la corrente è alternata possiamo cambiare l'intensità e anche la frequenza e poi questo circuito secondario dove qui si vede poco ma la lampadina si mette a mandare luce e il flusso ovviamente indotto cambia a seconda delle dimensioni dell'area del numero di spire se aumento la velocità con cui cambia il flusso o un effetto di corrente indotta aumentato quindi vedete che la lampadina da più luce vicino di più ovviamente l'effetto è maggiore perché il flusso concatenate più grande più intenso d'accordo questo è quello che vi mostrava l'idea di prima qui la simulazione lo chiarisce probabilmente un poco meglio un po più graficamente ok allora come quantifichiamo il tutto beh il campo magnetico nel circuito 2 cioè quello dove abbiamo la forza termotrice indotta è proporzionale alla corrente che attraversa il circuito 1 per quale ragione perché il flusso è proporzionale alla corrente la forza termotrice che misuriamo quel nostro galvanometro collegato nel circuito 2 quindi che per la legge di farla di noi ma lenz è legata alla derivata con cui rispetto al tempo del flusso attraverso il circuito 2 prodotto da circuito 1 sarà proporzionale alla rapidità con cui cambia la corrente nel circuito 1 ora del punto di vista applicativo tecnico non è molto facile calcolare il flusso del campo che attraversa il 2 però si può misurarlo ok da l'intensità della corrente e del valore numerico possiamo dedurre quant'è questa la costante che di proporzionalità tra la forza termotrice indotta e la variazione nel tempo della corrente del circuito 1 questa costante di proporzionalità prende il nome di mutua indottanza quindi ripeto ci parla di mutua indottanza o indottanza reciproca se preferite quando la corrente elettrica prodotta in un circuito corrente elettrica cambia nel tempo fa sì che in un secondo circuito si verifichi per induzione elettromagnetica una forza elettromotrice indotta quanto vale questa forza elettromotrice indotta beh dipende dal valore esatto del flusso anzi della derivata del flusso del campo magnetico rispetto al tempo e qui ovviamente dipende un po dalla geometria del sistema cosa che non è semplice perché alcune vedete anche della figura alcune linee di campo magnetico attraverseranno il circuito altre no dipende da dove posizionato e da quanti avvolgimenti da quanti avvolgimenti lo caratterizzano e dalla sua forma ok il si può invece dedurre abbastanza semplicemente da delle misure si misura quanto rapidamente cambia la corrente del circuito 1 si misura quant'è l'effetto nel circuito 2 la costante di proporzionalità tra i due è quello che si chiama coefficiente di mutua induzione che avrà come comunità di misura dei volt perché la forza elettromotrice indotta sono dei volt diviso una corrente e in tempo di volte fratto ampere fratto secondo che questa m è la muta induttanza di fatto risulta che se io scambio i ruoli cioè se io faccio in modo che il generale la corrente venga generata dal circuito 2 e l'effetto indotto sia circuito 1 m 2 1 vale anche m 1 2 cioè la cosa proprio reciproca d'accordo che ovviamente la cosa funziona anche se il circuito 1 e 2 vanno a coincidere cioè se la corrente cambia in un dato circuito e il flusso di campo magnetico attraverso lo stesso circuito produce anche sullo circuito generatore seguito o principale un effetto di forza elettromotrice indotta per lo stesso motivo sempre perché vale la legge di fare dei norman lenz in quel caso parlo di autoinduttanza cioè l'effetto che una corrente elettrica variabile produce sul circuito stesso nel quale circola la stessa corrente perché anche in questo caso immaginate appunto di vedere un circuito di questo tipo qui avete un interruttore una pila la resistenza e poi una spira alla chiusura dell'interruttore la batteria manda in circolo una corrente elettrica che quindi passa da zero a un valore maggiore di zero questo cambia il flusso magnetico concatenato al circuito e quindi produce una forza elettromotrice indotta di segno opposto perché tenta di frenare di rallentare per la legge di lenz di questa variazione in questo caso parlo di autoinduttanza poi normalmente il termine auto si cade e si parla di induttanza di un determinato elemento di circuito però è che come anche la resistenza in un circuito in generale l'induttanza distribuita un po dappertutto normalmente la si considera concentrata in un elemento che si indica come questo simbolo che avete qua sotto questa specie di di spirale di molla che ricorda un po con la resistenza attenzione ma mentre la resistenza è fatta di di segmenti spezzati di una seghettatura qui ricorda più una molla che una che una seghettatura questo simbolo sta a indicare l'induttanza del circuito ok e come la calcolo beh applichiamo lo stesso ragionamento visto prima a uno stesso circuito ok quindi la forza elettromotrice indotta dal circuito per il fatto che attraverso il circuito stesso passa corrente elettrica variabile è data dalla legge di lenz forza come si è indotta uguale a meno numero delle spire per la variazione di flusso nel tempo se nel nostro circuito ci sono n spire al posto di m qui si usa l se il circuito che subisce l'induzione è lo stesso che la produce quindi l'auto induttanza ha il simbolo l e si misura in questa unità di misura che si chiamano henry questa h è una henry o un'induttanza di un henry quando in un circuito o una forza termotrice prodotta di un volt al variare della corrente di un ampere ogni secondo ok da qui è facile ricavarsi l eguagliando la prima e la seconda equazione e avete che i due segni meno si semplificano n l'auto induttanza o induttanza più semplicemente vale numero di spire nel circuito per la derivata del flusso rispetto al tempo fratto la derivata dell'intensità di corrente rispetto al tempo qui si può invertire di e di t e quindi di fi di t per t di di nessuno è una derivata composta e quindi posso esprimerla come la derivata del flusso rispetto alla corrente ok quindi il l'induttanza di un circuito formato ad esempio dai ne avvolgimenti è il numero degli avvolgimenti per la derivata di quanto dipende il flusso concatenato circuito rispetto alla corrente d'accordo e delle è una proprietà come dire legata alla geometria del sistema e quindi a come fatto come formato se io immagino che l non dipende dalla corrente allora posso semplicemente integrare questa relazione e dire che il flusso è dato dall'induttanza orato induttanza per la corrente elettrica fratto il numero di spire o di avvolgimenti qui avete alcuni esempi di induttori cioè di elementi del circuito che hanno un particolare particolarmente elevato in dittanza sono semplicemente degli avvolgimenti e il simbolo come abbiamo già visto è questo qui questa specie di molla e questo è un esempio di circuito dove presente un induttore con la sua induttanza una resistenza è una batteria e dopo tra un attimo lo studieremo un po più approfonditamente supponiamo che di voler invece calcolare in modo un pochino più approfondito l'induttanza di un elemento tipico che ha induttanza che è un solenoide come visto nelle figure precedenti in quel caso ricordiamo che la il campo magnetico dell'interno del nostro solenoide il nostro solenoide che a n avvolgimenti è lungo attenzione l minuscolo perché l maiuscolo si confonderebbe con l'induttanza ed è attraversato da corrente i e vale mi zero per me abilità magnetica nel vuoto se nell'induttore se nello solenoide c'è il vuoto ma ci sarà mi zero per mi r se come spesso accade nel nostro solenoide è avvolto attorno a un nucleo a una barra di metallo presumibilmente ferromagnetico per moltiplicato il numero di avvolgimenti diviso la lunghezza del solenoide per la corrente che lo attraversa quindi il flusso del campo magnetico è quanto abbiamo appena visto b moltiplicato per a quindi mi zero n fratto l i volte a con la area della sezione del solenoide quindi l visto prima definizione di l è n volte la derivata del flusso rispetto alla corrente e quindi qui il flusso è proporzionale alla corrente quindi sarà mi zero n al quadrato perché ne appare due volte diviso l per a di questa come vedete dipende dalla geometria e dalla forma del sistema dall'area dalla lunghezza del numero di spiro al quadrato ed è il fatto che contenga o meno un nucleo ferromagnetico come si comporta l'induttanza attenzione sempre per effetto della della legge di fara dei noi ma il prodotto di lenz l'effetto della forza tramotrice indotta è quello di opporsi alla variazione che la prodotta quindi se prendiamo il nostro esempio di circuito di prima se ho la batteria ok che la batteria alimenta il nostro circuito e quindi spinge le cariche nel senso della corrente che avete la freccia rossa ok allora l'induttore l farà sì che la crescita della corrente venga ostacolata quindi se la corrente in crescita qui sotto avete la figura l'induttore si oppone alla corrente quindi producendo un polo positivo opposto a quello positivo della batteria è negativo dall'altra parte vice basse se invece la corrente sta diminuendo quindi ad esempio che ne so quando io sto aprendo il circuito inizia la corrente cala la forza tramotrice indotta è diretta e ha una polarità che aiuta la corrente quindi che mantenta di mantenere la corrente quella è quindi la polarità sarà la stessa del verso della corrente ok questo perché ci serve perché ci serve perché adesso andiamo a studiare come evolvono le grandezze fisiche corrente e anche di tensione nel caso del nostro circuito che contenga un elemento induttore per esempio più semplice al circuito rl cosiddetto cioè dove ho una batteria collegata in serie a un induttore è una resistenza l'induttore a induttanza l la resistenza a resistenza r d'accordo qui c'è un punto piuttosto delicato che però tratteremo tra in un'altra lezione un po più approfonditamente immaginate di percorrere la circuito nel senso della corrente e di sommare tutte le cadute le diverse di potenziale quindi potenziale dopo meno potenziale prima attraverso la batteria di potenziale successivamente la batteria qui sulla destra è più grande che sulla sinistra quindi la differenza di potenziale è la forza elettromotrice della batteria e poi attraverso la caduta la resistenza della corrente la potenziale cara di ri quindi o meno ri e idem se la corrente ci immaginiamo che sia in crescita la differenza di potenziale attraverso l'induttore è meno ld su di come la legge di lens e poniamo il totale uguale a zero questa è l'equazione differenziale perché coinvolge la derivata della corrente che gestisce che regola che ci permette di studiare l'evoluzione del circuito della corrente nel circuito immaginiamo che alla chiusura della batteria la corrente sia nulla inizialmente e quindi cresce nel tempo secondo questa legge qui che ho ricavato a destra basta portare tutti i termini non derivati a destra e cambiare il segno quindi abbiamo che la derivata della corrente nel tempo è la forza elettromotrice della batteria quindi la forza elettromotrice costante meno ri diviso l'induttanza l qui è sufficiente utilizzare la solita tecnica che abbiamo usato anche nel circuito con la capacità se ricordate qui la tecnica di separazione delle variabili quindi divido per e ri e moltiplico per dt e integro cioè trovo una funzione la cui derivata sia uno su e meno ri a a sinistra è una funzione del tempo che stavano come derivata uno su l a destra quindi le due primitive si eguagliano quindi integro termine a termine con questo simbolo della s sta a indicare che cerco una funzione primitiva di quella indicata nella variabile indicata nel differenziale ok questo lo troverete lo tratterete sicuramente in esteso a breve nel corso di matematica l'integrazione può essere fatta tenendo conto delle condizioni di partenza ok qui abbiamo fissato che la corrente iniziale sia 0 quindi integro in modo definito da 0 a i a sinistra e da 0 a t a destra perché la variabile integrazione a sinistra è la i a destra è t quindi a sinistra trovo che la nostra primitiva è il logaritmo naturale di di e meno ri tutto diviso r e a destra primitiva e t su l ok moltiplichiamo tutto per meno r e sommiamo i due logaritmi e abbiamo quello valuto naturale del rapporto e meno ri fratto e vale meno r su l t qui prendiamo l'esponenziale a destra e sinistra e vediamo che ti è moltiplicato per r su l r su l alle dimensioni dell'inverso di un tempo a una scala di tempo tau che dà la rapidità di crescita esponenziale o di decrescita a seconda che il circuito sia in carico in scarica della scala di tempo dell'evoluzione del nostro circuito quindi ripeto prendiamo l'esponenziale a destra e sinistra nell'equazione qui che vedete qui al centro e a sinistra ottengo e su e che fa 1 meno ri su e che è questo termine a destra l'esponenziale di meno t su tau dove tau è la costante di tempo l su r anche qui rendiamo esplicita l'equazione che abbiamo trovato quindi la funzione che ci dà l'intensità della corrente nel circuito r l in funzione del tempo è e su r quindi il rapporto tra la forza elettromotrice della batteria diviso la resistenza per questa grandezza che è uno meno l'esponenziale di meno t su tau quindi abbiamo visto che qui ten in conto automaticamente del fatto che se t è 0 la corrente è 0 quindi già qui quando abbiamo integrato l'equazione abbiamo inserito in questa condizione di partenza o condizione iniziale e inoltre questa espressione ci dice che se aspettiamo un tempo sufficientemente lungo matematicamente prendiamo il limite perché t che tende a infinito la parte dell'esponenziale vale a 0 e rimane e su r e quindi questo è il valore matematicamente diremo assintotico della corrente quindi per tempi molto lunghi quindi questo è il valore a cui la corrente nel nostro circuito la corrente per esempio che attraversa r nostro circuito tende man mano che il tempo che il tempo passa quanto rapidamente beh dipende dalla scala di tempo tau quindi tau vale l su r più la resistenza è grande più la resistenza intensa voglio dire più il il tam la scala di tempo è piccola quindi più rapidamente si raggiunge la corrente asintotica diceva se invece se l'indutanza del nostro solenoide è grande il tempo è lungo e quindi più lenta è la crescita della della corrente quindi nella prossima avete il grafi i due grafici che vi ricordano questo fatto quindi qui c'è la crescita esponenziale della corrente nel grafico di sinistra se facciamo la derivata della nostra corrente di queste funzioni abbiamo la differenza di potenziale nel nostro circuito e che anche questa invece scende a quando qui il capi dl la differenza di potenziale ovviamente si eguaglia non appena la corrente diventa costante non ha più se la corrente non cambia l'effetto della forza termotrice indotta è sempre via via sempre più piccolo ok questo tipo di circuito dove ho presento simultaneamente resistenza e induttanza si chiama circuito rl proprio dai due simboli che la caratterizzano il circuito un attimo si conci concentriamo sull'aspetto energetico del nostro circuito perché beh se tenete conto di quello che che fa la corrente man mano che cresce verso il suo valore asintotico riflettendo un attimo vediamo che all'inizio quando chiudo il circuito ok la corrente inizialmente zero quindi nel nostro solenoide non è presente campo magnetico mentre alla fine dopo un tempo lungo la corrente e su r nel solenoide corre una corrente costante i zero o i massimo e quindi è presente un campo magnetico stabile costante per cui la l'effetto finale della questa curva evolutiva della corrente sarà quello di passare da corrente nulla quindi campo magnetico assente a una corrente costante quindi un campo magnetico costante e omogeneo all'interno del solenoide per far questo la batteria deve spendere energia deve spendere il lavoro deve creare questo tipo di di situazione quindi serve una tra virgolette energia dissipata o spesa a questo scopo come facciamo a vedere questo beh analizziamo un pochettino più in dettaglio la batteria e per far attraversare una all'inizio dove c'è l'induttanza una certa quantità di carica infinitesima di q deve svolgere un lavoro che è uguale a differenza di potenziale prodotta per induzione ai capi del nostro induttore delta vl per loro della carica ricordate che la relazione tra energia e forza elettromotrice è proprio questa la forza elettromotrice è il lavoro svolto per unità di carica per muovere le cariche attraverso una certa zona del circuito la corrente i non è altro che è la rapidità con cui la carica cambia o si sposta nel nostro circuito quindi al posto di dq possiamo scrivere i di t ok i è la derivata della carica rispetto al tempo e quindi l'energia spesa per far spostare la carica infinitesima nel circuito sarà l'induttanza l di su di t che è legge di fare dei noi malenze il valore della differenza di potenziale indotta per la corrente perditi i due di t si possono semplificare per cui il lavoro infinitesimo per far cambiare di una grandezza di i la corrente all'interno nostro circuito sarà l'induttanza per la corrente per il differenziale della corrente anche questo posso integrarlo nel tempo e nella corrente quindi interva destra e sinistra per cui o meglio se preferite visto che ho il legame tra due differenziali di u e di i la funzione che lega energia e corrente sarà una funzione la cui primiti la cui derivata è l i in funzione di e quindi è un mezzo l i alla seconda tenendo presente il fatto che 6 e 0 l'energia sarà 0 e quindi questa energia è quella che la batteria spende o consumo se preferite dissipa per produrre che cosa per produrre una situazione in cui niente all'interno del nostro solenoide da zero o una certa quantità di campo magnetico che dipende dalla corrente quindi queste se volete è l'energia immagazzinata nell'induttanza un po come succedeva quando abbiamo lavorato sull'energia necessario a caricare un condensatore anche lì la questione era del tutto analoga e per esempio la costante un mezzo viene dal fatto che il mentre la solenoide si sta caricando di corrente che sta acquisendo diversa corrente cambia il flusso del campo magnetico e quindi cambia la forza elettromotrice indotta sono due cose che hanno una relazione non costante come indicato da questa relazione di uguale l di ok e prego u è l'energia immagazzinata nel campo magnetico all'interno del solenoide per creare il campo magnetico che il solenoide quando lo prendi non ci passa corrente è inerte e lo colleghi al circuito il circuito questo qua riportato qua sopra chiudi l'interruttore la corrente non va immediatamente al suo valore asintotico e fratto r come abbiamo visto prima ma ci sale lentamente ok mentre sale la corrente la batteria svolge lavoro spende energia per far attraversare le cariche al nostro induttore perché perché devi opporsi alla forza elettromotrice indotta quanto le costa questo c'è quanta energia spende la batteria per fare sì che all'interno alla fine dopo un tempo sufficientemente lungo all'interno del nostro solenoide ci sia un campo magnetico omogeneo e costante beh spende un energia che è uguale a un mezzo per l'auto induttanza o l'induttanza del solenoide per la corrente che attraversa il solenoide attraverso la corrente asintotica che attraversa il solenoide alla seconda e questa energia è immagazzinata nel solenoide l'energia che è custodita nel campo magnetico se andiamo a guardarla un pochettino più in dettaglio e ricordiamo quanto vale l'induttanza del solenoide mi 0 n quadro l suo per a e ricordiamo che il campo magnetico b è direttamente proporzionale ad i quindi al posto di i nell'espressione dell'energia possiamo sostituire un'espressione che contenga il campo magnetico quindi è uguale a b per la lunghezza del solenoide diviso mi 0 n se mettiamo queste tre relazioni all'interno di u abbiamo che l'energia u vale un mezzo mi 0 n alla seconda fratto l per a per i alla seconda al posto di la seconda sostituisco l'espressione del campo col campo magnetico e ho che l'energia associata al campo magnetico del solenoide vale un mezzo l'intensità del campo magnetico che ripeto è un campo omogeneo quindi è lo stesso dappertutto al quadrato diviso mu 0 per a l ma a l è il volume all'interno del solenoide perché è la sezione di base del nostro solenoide che è forte è fatto con un cilindro per l che è la lunghezza del cilindro quindi se divido l'energia diviso il volume o la densità di energia associata direttamente al campo magnetico qui al denominatore o mi 0 se sono nel vuoto avrò mi 0 per mi r se dentro il nostro solenoide c'è un materiale premesso presumibilmente un ferro magnete vi ricordate invece che le densità di energia del campo elettrico era un mezzo y 0 per e alla seconda l'abbiamo ottenuta in modo del tutto analogo morale della favola se devo creare un campo elettrico in un condensatore o un campo magnetico all'interno di un solenoide per esempio devo spendere energia e per questa energia è un'energia che immagazzinata nel fatto che lì esiste un campo di tipo o elettrico o magnetico elettrico nel caso del condensatore magnetico nel caso del solenoide e questa energia può essere risfruttata ok posso riacquisirla se per esempio considero il circuito di prima e tolgo la batteria ok e parto da una situazione in cui la corrente iniziale non è zero immaginate che sono già arrivato alla corrente stabile e diviso r escludo la batteria e lascio che il circuito si evolva allora o l'equazione identica quella di prima ma questa volta non c'è più il termine è perché non ho più la batteria però nel nostro nel nostro solenoide gira ancora corrente e quindi c'è campo magnetico e però la resistenza dissipa la corrente la frenna l'austacola e quindi per effetto già uno consuma energia la resistenza e quindi la corrente in questo caso calerà su con una scala di tempo simile alla precedente che troviamo risolvendo questa volta questa equazione la stessa di prima togliendo il termine e della batteria e questo è l'equivalente della scarica del condensatore qui se volete si scarica il nostro solenoide la nostra induttanza e la rapidità con cui decresce la corrente la rapidità della derivata temporale della corrente elettrica è uguale a meno a r su l i quindi a meno i su tau anche qui è facile risolvere questa equazione e l'andamento della corrente un andamento esponenziale del valore iniziale che i zero che era quello che era e volve esponenzialmente col tempo con una costante che meno uno su tau e quindi dal valore iniziale che era il vecchio e su r a una decrescita esponenziale finché la corrente non va praticamente a zero nella scala di tempo di circa un 3 3 4 volte il valore di tau che è un comportamento come vedete del tutto analogo a quello che avevamo quando abbiamo studiato la carica e la scarica del condensatore anche lì avevamo un tipo di comportamento esponenziale nel tempo esponenziale sia in crescita quando il condensatore si carica sia in decrescita quando il condensatore escludevamo la batteria e lasciavamo che il circuito rc si nel tempo ultimo punto che vediamo oggi è uno strumento di di importanza tecnologica enorme perché beh già la volta scorsa abbiamo visto che il proprio la legge di lenz di faraday ci permette di trasformare l'energia meccanica in energia elettrica l'energia associata alla corrente mentre il motore elettrico ci permette di fare l'inverso quindi se io produco corrente elettrica sfruttando energia meccanica in lungo in un luogo e poi riesco a trasportare la corrente elettrica in un altro luogo in questo con un motore elettrico posso riottenere energia meccanica e quindi movimento che quindi posso trasportare l'energia anche a distanze notevoli per farlo però è importante a breve vedremo il perché poter agire sulla sulle caratteristiche di questa corrente in particolare sull'ampiezza per esempio della tensione cioè la differenza di potenziale oppure sulla sull'intensità della corrente stessa immaginate di avere una scrittura di questo tipo c'è un nucleo di ferro sagomato come una specie di 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 circuito ha fatto a quattro forma di quadrato e su questo nucleo di ferro di ferro magnete laminato in modo opportuno per evitare o per ridurre comunque le correnti parassite che non si scaldi troppo abbiamo avvolti due circuiti diversi caratterizzati da valori diversi della della tensione e da numero di avvolgimenti diversi nel circuito principale che quello a sinistra avremo np avvolgimenti e una tensione vp nel circuito di destra avremo ns circuito secondario avvolgimenti una tensione vs ok perché il nucleo di ferro beh il nucleo di ferro aiuta a far sì che il flusso che attraversa il primo circuito sia lo stesso che attraversa il secondo è utile per compattare per addensare le linee di campo magnetico e quindi il flusso fi come vedete dalle due equazioni qui è lo stesso nell'equazione per circuito primario vp e per circuito secondario vs sempre per la legge di fare la tensione nel circuito primario sarà np volte la derivata del flusso nel secondario sarà ns la derivata del flusso ma se i flussi sono gli stessi e facciamo un rapporto tra le due v abbiamo che la derivata del flusso si semplifica perché è la stessa e quindi le tensioni cioè le forze elettromotrici nei due circuiti sono proporzionali al numero di avvolgimenti del di ciascun circuito ok quindi il circuito primario che produce corrente nel secondario la produce in modo tale che la corrente nel secondario moltiplicata per il rapporto del del numero di avvolgimenti è data da quella del primario ok però la potenza dissipata in due circuiti è la stessa perché l'energia in me non si crea e non si distrugge quindi tanta potenza dissipa il primo circuito e tanta dissipa il secondo e quindi se le due potenze sono identiche lo è anche il prodotto tensione percorrente dato che il prodotto b per i è proprio la tensione la potenza dissipata di conseguenza mentre la differenza di potenziale o la forza elettromotrice se preferite nei due circuiti è proporzionale al numero di avvolgimenti in ciascun circuito la corrente ha la proporzionalità inversa cioè c'è molte più corrente dove o meno spire e viceversa la corrente è più debole dove o più spire perché la corrente si comporta in modo inverso a quello della tensione visto che il prodotto tensione per corrente è lo stesso in entrambi circuiti in conseguenza ripeto della legge di conservazione dell'energia tanta energia consuma o sfrutta se preferite il primo circuito o il circuito principale tanta ne sfrutta il circuito secondario ok quindi questo dispositivo che cosa fa si chiama trasformatore perché perché mediante il concatenamento di due circuiti diversi allo stesso flusso di campo magnetico riesce a moltiplicare o de moltiplicare l'intensità della tensione e questa è una cosa che si usa in tantissime situazioni per esempio tutte le volte che avete bisogno di caricare il vostro cellulare e la tensione di casa una tensione di 220 volt però per caricare il cellulare serve un alimentatore che funzioni a un'ampiezza 10 o 20 volte più più basse per cui si usa questa tecnica si usa trasformatore la tensione di caso la tensione alternata a 50 hertz e quindi perfettamente adatta per essere trasformata utilizzando la legge di induzione elettromagnetica e quindi la tecnica su cui il principio fisico su cui si basa il trasformatore di tensione ma anche di corrente ok beh qui c'è la video non abbiamo tempo di vedere cioè tutte ma vi lascerò il link per vedervi le mostrabile soprattutto la parte di dimostrazione di laboratorio legata alle grandezze che abbiamo visto oggi se ci sono domande se no oggi ci fermiamo qui abbiamo visto quindi la come si comporta un elemento di circuito che chiamiamo induttore caratterizzato da una grandezza che è l'induttanza che è legata alla all'effetto della legge di lenz nella legge di fare di noi ma lenz cioè il fatto che se voglio che si che sia in stauri che si crei che si produca una corrente elettrica all'interno di un circuito il flusso concatenato al circuito cambia nel tempo e fa sì che questo più la crescita della della corrente in un circuito sia ostacolato dall'induzione elettromagnetica e quindi nel caso ad esempio di un circuito di con una resistenza un induttanza una resistenza se vedete volete è un solenoide per farla più più semplice allora la esiste una grandezza fisica che si chiama induttanza che è legata alla forma e alla caratteristica del nostro solenoide che dà la scala di tempo durante nel narco della quale la corrente passa da un valore iniziale nullo a un valore assintotico a un valore di regime se preferite all'interno del nostro solenoide questo stesso processo all'inverso cioè quando il solenoide passa da corrente diversa da zero a corrente nulla durante la scarica del solenoide è interpretabile avviene lo stesso nell'arco della stessa scala di tempo ed è interpretabile come già avevamo fatto nel caso del condensatore come un accumulo e un disaccumulo di energia prodotta o spesa se volete dalla batteria per creare all'interno del solenoide il campo magnetico e quindi possiamo immaginare che associata alla all'esistenza del campo magnetico una certa regione dello spazio ci sia una determinata densità di energia quindi ovunque o campo magnetico in realtà ho un deposito se preferite di energia che è la cui densità di energia per unità di volume è data da un mezzo per l'intensità del campo magnetico in questo caso al quadrato diviso la permeabilità magnetica del mezzo in cui mi trovo mi zero se nel vuoto mi zero mi r se sono in un mezzo ricordate la cosa analoga per il campo elettrico era che l'intensità di energia di un campo elettrico è un mezzo e y zero costante di elettrica del vuoto se sono nel vuoto y zero e y r sono in un mezzo di elettrico per l'intensità del campo elettrico al quadrato sempre utilizzando la legge di faradena e malenze abbiamo visto che è possibile moltiplicare o demoltiplicare la l'intensità della corrente in questo caso corrente alternata che percorre una coppia di circuiti accoppiati legati avvolti meglio ancora lo stesso nucleo di ferro che serve a fare in modo che il flusso in entrambi circuiti sia lo stesso questo tipo di dispositivo si chiama trasformatore ed è utilizzato in moltissimi contesti sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista domestico e permette di alzare o abbassare l'intensità della forza elettromotrice che muove le cariche all'interno di un determinato circuito il prossimo passo sarà quello di andare a esaminare in generale o più in dettaglio il comportamento di elementi di circuito un pochettino più articolati quindi avremmo non solo una resistenza una batteria ma anche un'induttanza e l'altro elemento circuito che avevamo visto in passato e la capacità di premi circuiti rl c che provaremo la prossima prossimamente che è un altro punto importante lo vedremo in una delle prossime lezioni sarà quello di specificare meglio la non conservatività del campo elettrico in caso di campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ma questo lo vedremo la prossima volta se ci sono domande se no ci fermiamo qui grazie a tutti grazie a tutti